Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino Non potete assolutamente capire quanto io ami registrare questa tipologia di video Avete seguito la patch 15.20? Avete visto che cos'è accaduto a fortezza furtiva? Predator sta arrivando e dovrebbe essere la skin segreta di questo pass battaglia Comunque i suoni sono stati aggiornati eh Le cose si sono fatte più serie qua sotto, riusciamo a sentire anche i nuovissimi animali addirittura Comunque la navicella di Predator è proprio qui, ieri abbiamo completato la missione Quindi in molti sapranno già di che cosa stiamo parlando A breve arriveranno nuovissimi cacciatori di taglie sulla mappa quindi tenetevi pronti Ma per stamattina non voglio focussarmi qui Questo perché mi avete segnalato una cosa molto importante Dobbiamo dirigerci ad Idro 16 Ragazzi miei, seguitemi perché oggi si parte per una nuovissima avventura La cosa bella è che proprio due giorni fa ci siamo recati a Campomerluzzo Per parlare con Jonesy Bunker e poi killarlo Dato che teoricamente non si poteva Perché stiamo parlando di un NPC sotto forma di hologramma E qui ragazzi troveremo la stessa cosa però è un bel po' che non venga a fargli visita eh Non so neppure se sia ostile come un tempo però il fumetto è apparso Ragazzi vi ripresento Rukus, eccolo lì, ci ha già visto Sì, parecchio ostile devo dire Perché vi sto dicendo ciò? Perché una volta killato questa è un'informazione che parte da voi Ragazzi mi sono tenuto questa sorpresona finora che sono le 4 del mattino E non ho visto nulla Dico un'informazione che parte da voi perché siete stati proprio voi a fornirmi questi dati Io non sapevo nulla di tutto ciò ed infatti vi ringrazio tantissimo Ma è salito? No sta picconando Cerchiamo di killarlo Vediamo È parecchio shieldato devo dire Sì Devo dire parecchio Allora Ragazzi non mi ci avvicino perché so che scioglie eh Allora Va bene Scendiamo Guardate eh, seguitemi Lo killiamo Ok pronti, pronti, pronti Dove è andato? Ma? Ragazzi si è buggato? Si è buggato Rukus boys Raga lo so Forse non ci crederete ma in questi minuti ho cercato di killare Rukus in singolo Duos terzetti E adesso mi sono lanciato anche in squad E non funziona Assolutamente No io non ci credo ragazzi Non ci credo Che mi sono perso un'altra volta Una cosa così bella Non ci posso credere Non voglio crederci Questo è il mio ultimo tentativo ragazzi Altrimenti Abbiamo failato Mi dispiace Che tristezza Che tristezza raga Sono davvero Non ho parole vi giuro Ma quando muore Per favore spawn Per favore spawn Il fumetto è ancora lì raga Ok adesso ando via Ma perché mi va male ogni singola cosa in questo gioco Credo di avere un mio record personale per tutte le cose che riesco a perdermi Volevo parlare con lui perché a quanto pare si trattava di un nuovo NPC Che dopo averlo killato Rispawnava sotto forma di hologramma Ed il gioco permetteva di dialogare con lui Quindi ragazzi molto simile a Jonesy Bunker Potevamo fargli delle domande Lui poteva rispondere a seconda di ciò che gli proponevamo Qualcosa di fantastico Ma soprattutto sarebbe stato bellissimo averlo qui in mattinata con voi Mannaggia raga Non so perché abbiano disabilitato questa funzione Di solito quando avvengono tali cose non tornano più in gioco In realtà spero che torni perché non so neppure di che cosa parli Rukus raga Non lo so perché torna sotto forma di hologramma Perché non so nulla a riguardo Ripeto mi son tenuto questa cosa da registrare Nel video mattino con voi E scoprire tutto ciò assieme E' incredibile raga E' davvero incredibile Voi non potete capire ma ci son rimasto malissimo Vi giuro Ero super hypato di fare questo videozzo per voi E niente Raga andiamo a spulciarci lo shop giornaliero Cioè davvero Non so Mi trovo super spiazzato Clicchiamo su negozeggetti E questo ragazzi miei E' lo shop di oggi La regina dei ghiacci Così A gennaio dopo natale Vabbè Ragazzi vi ricordo il mio codice creatore Martex Se volete sostenere Anzi se volete abbattere questa sfiga Che ci perseguita da anni Perché oramai son conosciuto per quello che si perde ogni singolo evento su Fortnite Se c'è una cosa Ragazzi una nuova cosa Io sono pronto a perdermela Oramai è così Giabba e Gomu Raga ma quante volte le spammano questi motte nello shop Ma troppe troppe volte Qualcuno adesso mi chiederà Martex quando uscirà Travis Scott Beh forse a giorni Ragazzi forse manca davvero poco Tenetevi pronti Risparmiate qualche v-back Perché forse 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 Potrebbe arrivare qualche sorpresina Nello shop Io ve l'ho detto eh Allora abbiamo Morro Anteia Bellissimi gli stili Super comics Guardate qua 1500 v-backs Entrambe le skin Anzi 1800 quella maschile Perdonatemi perché anche il piccone Che si va a destrarre dal backpack Raga vi giuro sono troppo demoralizzato Troppo Canto di caccia Stavo leggendo un'altra cosa Meno male che mi son fermato un attimino ad elaborare la frase Promessa dell'alba Ok Qui abbiamo la regina di ghiaccio Ragazzi dei ghiacci Non la vedevo da un casino Dovrebbe avere tre stili selezionabili Non so perché non li fa vedere Perché si tratta di stili sbloccabili Quindi ci sono delle missioni da completare Che bello raga E mi pare che fosse Versione blu Oro E rossa 2000 v-backs di skin Sotto abbiamo Sanctum Comunque Ultimamente gli shop sono parecchio Ristretti Perché? Perché in glace l'X del set permafrost da sola? Così? Va bene Fortuna bellissimo raga Amo questo piccone 500 v-backs Sound Base Piede veloce All right 500 v-backs Pugile Ombra E terapia Della danza Che tristezza raga Che tristezza Per favore Lasciate un like Per questo video Super triste Come è finito male Quanto 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 è finito male Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia ragazzi miei Davvero perdonatemi Non è Non è colpa mia Vi ringrazio per avermi seguito anche questa mattina Vi ricordo di iscrivervi al canale Se ancora non siete iscritti Così da non perdervi Altre mega Sfighe Non sfide Ma sfighe Noi ci becchiamo in live Quest'oggi per il torneo di TheGref E nient'altro Un saluto da Martex Come al solito un bel Ciao brothers